Ora guarda attentamente questa pod mod, iscriviti al canale youtube il mio angolo dello svapo, iscriviti al canale youtube il mio angolo dello svapo e ora ascoltami ancora attentamente, fai iscrivere tutte le persone che conosci al canale youtube il mio angolo dello svapo. Ora schiocchierò le dita e ti vedrai tutto il video partendo dalla mirrorless. Ed ecco la scatola, dentro abbiamo vano pod più cartuccio di riserva, cavo di tipo B, catena per evitare che vi rubino il motorino per portare la pod e poi come sempre abbiamo i vari certificati di originalità e libretti delle istruzioni. Ed ecco qui la protagonista del video, ossia la Freemax Circle. Sotto troviamo l'attacco per la ricarica, la poda a 550 mAh gestita in questo spazio circolare. Abbiamo qui ovviamente l'attacco per metterci la nostra catena veramente incredibilmente tamarra, che io la utilizzerei in modo un po' diverso rispetto a quella che metterà al collo. E poi cosa abbiamo? Abbiamo la cartuccia, dentro non perde neanche una goccia, cioè forse no, non c'è neanche condensa. Come vediamo anche la cartuccia è salva, cartuccia come sempre da 2 ml di capacità, resistenza da 1,5 ohm quindi prettamente da guancia. Andiamo a reinserirla calamitata come sempre. Lateralmente troviamo il tasto che può essere sia tasto fire che tasto accensione e spegnimento, quindi se noi vogliamo andare a scenderla 5 click per spegnerla altri 5 click. Led che vi darà lo stato di erogazione anche della batteria. Che altro dire raga? Andiamo alla svapatina e alla circolare chiacchierata finale. Se siete tornati dall'ipnosi e avete fatto quello che vi ho detto, ossia far iscrivere tutti al canale YouTube il mio angolo dello svapo, partirei con qua la catena da tamarrissimo, che io invece userei nel passante dei pantaloni per tirarlo fuori tipo orologio cipollotto. Non sapete cos'è l'orologio cipollotto? Googlatelo dopo questo video. Io ragazzi direi di partire, pronti? Via! Devo essere sincero, la forma è un po' scomoda da tenere in mano, ma ha dei molti pregi secondo me. Il primo è un ottimo tiro di guancia, molto contrastato, veramente ottimo, soprattutto anche aromaticamente. Si possono fare tiri anche abbastanza compulsivi e prolungati, e dico la verità, è strana però non è malvagia. L'unica cosa è la forma che un po' la penalizza. Il tasto è un po' scomodo, ma fortunatamente essendo una pod mode, essendo comunque una pod mode semi-automatica, quindi scegliete voi come svappare, se premendo il tasto oppure semplicemente tirando, il tasto se volete, se decidete di premere il tasto appunto per andare a svappare è un po' scomodo. Mentre se andate in automatico, non è affatto male. La pod mode, come batteria non è affatto male, la gestisce molto bene la batteria. Devo dire che è abbastanza carina, nascondibile in tasca senza troppi problemi o usandola come ciondolo, anche se non me la rischierei. Aromaticamente le posso dare anche un 7,5, perché comunque aromaticamente è ottima. Si sente bene il mio old school con questa piccola nota di miele, valorizza molto i tabacchi secchi. Capacità classica ragazzi da 2 ml di... Ogni qualvolta che andrete a fare un tiro andrà a illuminarsi il led per darvi anche lo stato della batteria. In questo caso io sono in blu, quindi dal 70 al 40%, poi diventa rosso. È una pod un po' strana, secondo me la forma un po' la va a penalizzare, perché non è facile da tenere in mano. La catena del motorino potevano un po' evitarsela, diciamo, o magari farla un po' meno penga, perché onestamente chi andrebbe in giro con l'alcol o una cosa del genere? Magari in fiera, sì, ma durante la giornata odierna non penso che qualcuno indossi una pod mode. Però non si sa, magari la Freemax vuole lanciare la nuova linea giugliello svapo, molto intrigante. Ma se non fosse così, devo dire che la catena è veramente enorme. Ragazzi, la pod non è malvagia, perfetta per chi vuole provare a smettere di fumare, perché comunque non è ingombrante, piccolina si ricarica molto velocemente nonostante non abbia il cavo di tipo C. Però la pod non è male, migliorare sicuramente il tasto, migliorare un pochettino la forma, che ovviamente hanno fatto così per avere qualcosa di diverso e per non avere sempre il solito prodotto, però secondo me la forma è un po' scomoda. O magari fate qualche piccola miglioria su come tenerla in mano, perché l'ergonomicità ci va a perdere parecchio. Ragazzi, il video ci conclude qui. Grazie per aver guardato questo video. Come sempre, prima di chiudere vi invito a lasciare un bel mi piace, condividere il video e condividere anche il canale. Dal mio angolo dello swap è tutto, il vostro DJ Vise conclude e quindi va a dirvi... Ufo!